Musica Bologna aderisce alla giornata mondiale del gioco che si svolge proprio oggi, 28 maggio e l'idea di organizzare un programma diffuso di attività in piazza ma anche nei quartieri, nei territori nasce proprio quest'anno dal comune di Bologna, da Unicef e da Cinnica ma anche da tante altre associazioni cittadine e dicevo Bologna si conferma una città amica dell'infanzia e infatti non è un caso se è stata selezionata tra le 20 città a livello mondiale e l'unica in Italia a partecipare a un programma di internazionale Street for Kids quindi per diventare ancora più città a misura di bambino accanto a me il presidente di Unicef Comitato di Bologna che ringrazio perché davvero ha dato il cuore a questa manifestazione tanta passione e un po' un sogno che si realizza, è così? Sì, questa è la conclusione, abbiamo già fatto due altre due feste ieri a Imola con 1300 bambini ieri mattina e il 18 maggio a Baricella con Baricella Malabergo anche lì tanti bambini e tanti genitori con musica, ecco sempre con musica peraltro ricordo che il 27 maggio, cioè ieri è stato celebrato un anniversario molto importante infatti l'Italia con la legge 176 del 27 maggio 91 ha adottato la convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dunque il messaggio è per i ragazzi e per le loro famiglie perché il messaggio è uno solo che è quello che Papa Francesco ha detto a tutti e che per i ragazzi è ancora più importante fratelli tutti ho girato in alcune scuole dove sono stati subito inseriti tanti ragazzi che vengono dall'Ucraina e mi ha colpito perché molti di Bologna hanno imparato alcune parole dell'ucraino per farli sentire a casa e molti di questi ragazzi ucraini in pochissimo tempo hanno imparato un po' di italiano allora faccio questo esempio perché scappano dalla violenza, dalla guerra, dall'ingiustizia scappano dal fatto che gli hanno bombardato la casa insomma quello che noi vogliamo a Bologna quello che noi vogliamo in tutto il mondo è che impariamo ad essere tutti fratelli a volerci bene, ad aiutarci a sapere stare insieme a non prenderci in giro a giocare un po' tanto a me è sempre piaciuto giocare però io mi ricordavo da piccolo che c'era una cosa che diceva lo scherzo è bello quando dura poco in 30 secondi perché sta per iniziare a piovere siamo felici di aver organizzato questa manifestazione giornata del gioco ringraziamo l'Unicef devo ringraziare Cinnica tutte le associazioni che hanno collaborato siamo in tutti i quartieri dove stiamo facendo le piazze scolastiche pedonali vogliamo fare le zone 30 ci teniamo ai bambini e vi vogliamo bene grazie a tutti la senatrice Elena Ferrara è stata la prima in prima fila a prevenire e contrastare il cyberbullismo il bullismo virtuale e un DDL appunto è stata la firmataria colui che l'ha scritta e poi è diventata legge la legge 71 si ispira alla convenzione infanzia e adolescenza perché è un diritto ci sono i diritti dei bambini e dei ragazzi il gioco è un diritto anche il gioco online naturalmente non bisogna esagerare bisogna sapere cosa fare e anche diceva su eminenza faceva riferimento alle prevaricazioni tra pari ecco sul digitale in una piazza che è un po' diversa da quella che stiamo guardando ma ci sono le piazze digitali è possibile che si sviluppino degli atteggiamenti di prevaricazione ma stiamo proprio lavorando per questo e anche Bologna oggi dimostra con la consegna delle patenti di smartphone di essere assolutamente in prima linea anche in questa battaglia le consegne di oggi si inserivano perfettamente in questa giornata anche perché noi siamo veramente convinti ringraziamo proprio anche del lavoro fatto dalla senatrice Ferrara insomma il lavoro anche parlamentare su questi temi perché siamo veramente convinti che sul digitale dobbiamo essere tutti quanti avere le stesse opportunità però saperci difendere da alcuni insidi e soprattutto sapere anche che c'è un diritto e un dovere di sconnettersi ogni tanto e di stare con gli altri di giocare è uno strumento non deve essere la nostra ossessione parlo anche per noi anche noi adulti poi spesso esageriamo se non l'abbiamo in mano ci sentiamo un po' persi se lo scordiamo a casa dico Dio cosa succederà in realtà credo che sia molto importante saper usare questo strumento ma saperci anche dire quanto è importante riprendere a fare cose belle, normali come giocare insieme stare insieme all'aperto e farlo sempre di più in una città che vogliamo sempre più misura di bambino con piazze scolastiche zone pedonali zone 30 dove si vada piano dove si vada in bicicletta insomma è un impegno importante siamo convinti che con i bambini i bambini di questa città andremo lontano anche in questo senso la patente smartphone è un progetto che abbiamo voluto fortemente anche qui a Bologna per educare i giovani i ragazzi al digitale e al contempo educare anche i genitori gli educatori gli insegnanti tutti coloro che hanno a che fare con i ragazzi e con i bambini è stato un percorso che abbiamo avviato nell'autunno dell'anno scorso un percorso abbastanza complesso abbiamo coinvolto delle scuole si sono offerte l'IC4 l'istituto comprensivo 4 l'istituto comprensivo 7 che sono qua insomma i ragazzi gli insegnanti ringrazio soprattutto voi che siete qui e che avete sperimentato il percorso con i vostri docenti allora si vede che quest'acqua è un po' un battesimo per noi perché voi siete i primi a Bologna a prendere la patente ma la cosa che caratterizza questo progetto a Bologna è che sono stati maggiormente coinvolti i genitori e anche i nonni tant'è che ci sono patenti studiate con l'iconcina per i preadolescenti per i genitori e per i nonni perché all'interno di questo contesto oggi acquista molta rilevanza il momento che stiamo per vivere abbiamo parlato di piazze e zone 30 piazze a traffico limitato anche quelle a cui non accedono le automobili ecco anche sulla rete si possono trovare degli spazi in sicurezza si possono trovare anche invece degli spazi dove è facile essere travolti questo penso che voi l'abbiate ben capito quest'anno lavorando insieme ai vostri professori che sono stati formati proprio per poter lavorare con voi su questi argomenti non voglio spaventare nessuno ma la legge 71 c'è perché purtroppo una mia alunna che ho avuto per tre anni che per tre anni l'ho vista cantare danzare non c'è più e avrebbe potuto essere qui lei oggi invece a darvi questa patente se avesse superato quel momento io ho fatto una legge perché quel momento non si presenti più voi dovete sapere che noi adulti ci siamo e sappiamo accogliere anche i vostri disagi dobbiamo farci questa promessa va bene grazie grazie a tutti